Bella casta Vabbè, vediamo Se il game ha intenzione di partire Andiamo Dura più, sta durando di più Il caricamento dei campioni Il caricamento del game piuttosto che il game Cioè è incredibile Allora dunque Non so contro chi sono ma tutti pocano Di conseguenza cosa migliore E partire con questo anche se sono full AP Anzi, andiamo full AP e basta Allora le opzioni sono 15 di AP E 60 di vita Oppure 20 di AP 20 di AP Ah vado con Yasuo? Beh effettivamente ha un senso Bella lo zar Iron ha lo scudo buono Col pass di AT che è veramente illogico Effettivamente Allora la Q ce l'ho ogni 1,6 secondi La E vabbè la E non riuscirò mai contro quel team lì Cioè giusto Udyr è l'unico che mi può stare appresso A Zillal è mid Quindi boh Chi ci sarà top? Nidale e Chogat Top ci saranno Ezreal e Udyr Ok Ezreal e Udyr Speravo sinceramente In Nidale e Udyr Che avrei preferito Però ci accontenteremo Ragazzi ho già preso una brutta piega Diciamo che solo con la Q non è che faccio molto Io purtroppo Cioè mi serviva la E contro quello Purtroppo Yasuo non sembra essersi rivelato troppo utile sinceramente Magari è la mia impressione Però Uh bella sta con Mi è piaciuta Ah Udyr è come core Mem 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 Trasblood Ok 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 Eh tranquillo Yasuo Con calma Sai bro La pazienza poca E la voglia è ancora meno Vi dico soltanto questa Ok Seriamente c'è la Wurf Purtroppo sì Woody è andato back Sì No è lì Qualcosa è successo Qualcosa è effettivamente successo La madonna Ogni quanto faccio le live In genere le faccio 5 a settimana Tra YouTube e Twitch intendo Non solo su Twitch E gli orari non li ho fissi Le live su YouTube sono sempre alle 21 in genere Quello lì è permascudato ma che è C'è ancora poco danno Madonna Uh direi permascudato Non si riesce a fargli danno Cosa posso fargli Il monello No Non lo so No Porca puttana Ma perché Ma perché Iasus si fa il blu Ma cosa ti serve Ma per forza Giordi di rifesa mani Che dici che la gente qua Spamma le skill È ovvio Proprio a che partano Quella bf Iasus Cioè non capisco Basta lui è il jungler Adesso Lui è il jungler Basta Ciao Faccio giungla Gioco giungla Faccio mia giungla Non rompete E cazzo Mo con le ulti Trecamento Dobbiamo rompergli il culo Non lo metto in dubbio Con la non subisce danno E non vedo la sua magic resist Sinceramente A 26 magic resist Aspetto Aspetto il 6 Pusho di Q Oppure lo prenderò il 6 Anche io Adesso glielo pingo Oh dai I bot fanno qualcosa Ma il magic wyvern Col press di attack È 3-3 Rende scherzando Sta andando meglio Del mio Iasus Ma l'ho sbloccata La ult Mannaggia Ecco fa Iasus Non aveva Non ha avuto pazienza Deveva strassene un pelo indietro Eeeh Addirittura Allora Monello Posso farlo? Sì Ci c'è il monello Poi basta Proteriamo il lane Sperando che Iasus Voglia venire Però Spisco che il granchietto Eh sì Il granchietto sì Allora la ult Ci ho di continuo Che buono Ho il monello Iasus Ha il 6 Ezreal Non c'è Mettiamo una ward qua E un'altra qua Non c'è Ezreal Cos'è? Si è stancato? Unstoppable Eeeh And vai Vai GG Ezreal con la goccia Effettivamente può staccarla Il che ha senso in realtà Per aumentare i danni Può staccarla Quindi Non è in realtà stupido Eccolo lì E' mo' E' mo' Iasus mal fight ragazzi Dopo un po' Vorrei anche vedere Cioè Sarebbe OP anche in normal Figuriamoci in worth Quando hanno Sempre la combo di ulti L'unica cosa positiva Di sta lane Guarda Eeeh LOL Eh shit happens Ops Capita Faccio la pro- No la pro- Non serve Faccio la Rabadon Una buona mattata Perché adesso È per portarmi culo Buono Basta Non posso urlare di più Perché non ho tanta voce Cioè Non è che non ho tanta voce Però non Non sono estremamente energico Oggi Devo dire La ulti ci abbiamo Posso seccarti la testa Non sono pelato Non ci sarebbe gusto Vai Esuvati a fare il tuo blu Bravo Bravo ragazzo Oh Adesso è andato in un'altra lane Per muo dire Tanto Ivern E 10 qua Io voglio sapere Come fa Cosa madonna Stava facendo Cos'era quella roba Cos'era quella roba Che stava facendo Ragazzi Yasuo Ah ma sono all'inibitor Ah ok Forza raga Non abbiamo il nostro amico Ivern Purtroppo Ah All'op champ wins Cazzo raga Vincono solo i champion op Com'è possibile Ecco Sì intanto vi stavano distruggendo Ma stanno distruggendo tutto Ma cos'è Ah ah Ok Ah ah Rip Li abbiamo rotti ragazzi Ho spaccato Ma Ma malzare ha sempre la ultima Che è Ma sì Vabbè comunque Cosa Non ha veramente senso Sta modalità C'è Noni Riff Sado di shottarlo Però c'è le scarpe Magic Resist E quindi niente Ma si dai Gli abbiamo dato un po' di vantaggio su Va bene così Che brutto è sto gioco È bruttissimo Ma gioca a Fortnite Paradossalmente Fortnite Cioè per un new player sarebbe meglio Effettivamente a livello obiettivo E so che Accompagnare la parola bellezza Con obiettivo Non ha molto senso Però obiettivo avete Secondo me Fortnite è meglio Nel senso che accontenta di più le masse Sì sì Dani va bene Dai facciala sta partita Che ti ho promesso 11 mesi fa Va bene Dani ma non ce l'hai Amazon Prime Perché se no potresti usare quello Per non perdere i mesi di fila Tic 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 Bella quella ult Devo dire Grazie Jesu per averci cariato Grazie 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 Jesu Non ci arrivavo fino a lì Non ci arrivavo fino a lì Vabbè Perché ho Amazon Prime bitch Perché non ce l'hai questo mese Amazon Prime? Non usiamo molto Amazon Abbiamo tutto sotto caso Ah capito Ivern Oh Evviva Altri punti Sì Oh E adesso cosa dovrò mai fare Vediamo Il grafico Stai a vedere che Primo in danni c'è Ah no ok Non c'è Ivern Primo in danni Bravo Jesu Bravo Bravissimo Oh che bravo ragazzo Ok Jesu Cosa mi è arrivato Collection Icon Ok Jesu Ok Jesu